Radio Radicale, siamo col senatore Lo Giudice al termine della direzione del PD. Com'è andata? È andata nel senso che c'è stato un chiarimento rispetto a quello che era successo in questi giorni. Il segretario reggente Maurizio Martina ha chiesto e ottenuto una riconferma della sua carica di segretario reggente fino alla prossima assemblea, anche esprimendo una forte criticità rispetto ad alcune modalità utilizzate in questo periodo per stoppare la sua iniziativa di apertura di un percorso di dialogo con il Movimento 5 Stelle. C'è stato anche nel suo intervento un forte segno di discontinuità con il passato e la necessità, quindi il riconoscimento della necessità di un cambio di rotta e di un riconoscimento anche degli errori fatti in questi anni e per questo anche le minoranze hanno stato a favore della sua relazione. Com'è uscito il PD da questa vicenda, Erenzi? Ma è uscito formalmente unito, dopodiché attenzione alle unità di facciata. Bene, la ringrazio, ringrazio il senatore Sergio Lo Giudice. Grazie.